Musica Oggi una pausa caffè con il nostro caffè Ninfole, cara Nicra, il caffè della nostra terra, in questo caso proprio del territorio tarantino, un'azienda che è nata quasi 100 anni fa, grazie all'intuizione di Ciro Ninfole, alla sua passione per il caffè, che comprò la prima partita di caffè e iniziò quindi a fare torrifazione e a commercializzare il caffè, appunto Caffè Ninfole, che poi negli anni hanno aperto un gran caffè e poi la prima azienda, che era già un'azienda molto grande, di 5.000 metri quadrati su via Cesare Battisti, e poi arrivare all'attuale azienda che è a San Giorgio Ionico, su un'area di circa 12.000 metri quadrati, quindi veramente una grandissima azienda. Vado a fare il caffè per te, cara Nicra, e poi come vedi ho tirato fuori i fatti in casa di Di Leo, perché volevo ricordare di questa bella iniziativa di Di Leo che all'orango io ci tengo, vedete c'è questo bollino applicato sulla confezione, e così chi compra una confezione dei fatti in casa, che sono di vario tipo, in questo caso sono gli integrali con crusca, ma poi ci sono i biscotti quelli semplicissimi, senza latte, senza uova, insomma ce ne sono di vario genere, i fatti in casa si partecipa alla riforestazione dell'isola di Sumatra, e quindi alla possibilità di far vivere gli oranghi in un ambiente a loro favorevole, e quindi con l'acquisto di questa confezione anche voi darete una mano all'ambiente. Poi abbiamo i Fiorbi, che è la linea biologica, che insomma a me piace tantissimo, perché è fatta con le farine di una volta, il grano senatore Cappelli, poi la farina di Kamut, uso di zucchero di canna, quindi non di prodotti raffinati, quindi una grande attenzione alla nostra salute con tutti i prodotti che sono biologici. Grazie a tutti i nostri spettatori, 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 in questo progetto. Alla fine è stato un successo. Sì, è un successo perché comunque abbiamo conosciuto diverse persone, però anche adesso sappiamo come gestirci in un mondo differente. È stato molto interessante comunque seguire questo percorso e come abbiamo già detto non è stato facile all'inizio, però grazie comunque all'entusiasmo dei professori che ci hanno seguito e comunque anche della collaborazione che abbiamo avuto in classe. Abbiamo realizzato spot ma anche un pieghevole, questo qui. Questo è il pieghevole che la regia sta giustamente mandando in onda, quindi le botteghe artigiane dei ceramisti di Grottaglie. Sì, esatto. Questo è un progetto, giornalismo ed editoria. Abbiamo visitato delle botteghe ceramiche a Grottaglie e successivamente comunque anche facendo foto e successivamente abbiamo scelto le più belle e le più rappresentative e quindi abbiamo realizzato questo pieghevole. Quindi le foto che sono qui nel pieghevole sono realizzate da voi, giusto? Tra l'altro alcune con cellulari, loro si sono sui telefonini. E comunque successivamente abbiamo anche tradotto, abbiamo comunque dato delle didascalie a queste foto e successivamente anche le abbiamo tradotte nelle lingue che studiamo. Poi la cosa bella di questo progetto è che ha avuto una ricaduta sul territorio perché noi oggi in anteprima abbiamo portato il prodotto qui, però è in programma con la dirigente e con la scuola di renderlo visibile anche sul territorio, organizzeremo qualcosa col comune, con la Proloco, perché questi ragazzi, la cosa bella di questo progetto è che non è soltanto scolastico ed obbligatorio, cioè loro hanno trovato un punto di unione anche col territorio. Che cosa ha di bello Grottaglie? Promuovendo la loro terra e la loro tradizione artigianale, in questo caso quella dei ceramisti di Grottaglie. Parliamo di fiori con i nostri ospiti, i fiori d'autore, i fioristi Francesco e Rossella in termite. Buongiorno ragazzi, bentrovati, noi ci siamo già conosciuti un'altra volta, avete fatto la volta scorsa delle creazioni meravigliose e invece oggi appunto parliamo di primavera. Facciamo un'inquadratura a queste meraviglie, però io vedo anche i carciofi perché oggi oggi il nostro Francesco farà una creazione, un centrotavola, che cos'è Francesco? Sì. È una decorazione utilizzando i carciofi che poi in realtà mi sono ispirato al carciofo per un semplice motivo, perché comunque avendo un interno potrei, alla fine noi metteremo un tea light all'interno e lo utilizziamo come centrotavola. Ma sai che bellissimo? È veramente bello e comunque è una composizione talmente facile che da casa lo possono fare tutti, anche perché gli elementi per creare questa composizione sono questi. Abbiamo un cesto in vimini bianco, quindi semplicissimo, bianco è stato fatto apposta a prendere un cesto bianco perché la base deve essere neutra per far valorizzare tantissimi fiori e poi abbiamo utilizzato dei carciofi, naturalmente le nostre candele che verranno poi accese al termine della realizzazione della composizione. Abbiamo come elementi floreali la fresia, che è un elemento di questo periodo, è un fiore molto profumato, esistono diversi tipi di colorazioni. Poi abbiamo del garofolino che viene denominato chips in realtà, o garofolino del poeta, che è la sua caratteristica rispetto al garofono normale, mentre il garofo normale ha una corona molto semplice, è un fiore singolo. Qui abbiamo un mazzetto con tanti piccoli fiorellini. Parlo due secondi della mia composizione, come realizzarla. Quando abbiamo delle basi, quindi rotonde, non dobbiamo fare altro che eseguire la linea della nostra base. Certo. È una composizione che viene chiamata nel gergo tecnico Bittermeier, che in pratica è una composizione dove si creano più giri di elementi, quindi alla base abbiamo il giro del garofolino. Poi continuiamo con i chips, poi comincieremo a mettere un altro giro, un altro elemento centrale, poi abbiamo messo gli elementi decorativi, che sono i carciofi. Quindi Francesco, questo centrotavola, ma non solo, si può utilizzare un po' come complemento anche di arredo? Sì, sì, diventa come complemento di arredo. Nella cucina, nel soggiorno, in qualsiasi ambiente della casa. Anche perché, come si può notare, non stiamo utilizzando tantissimi fiori. In realtà alla fine vanno via un mazzetto di chips, di questi carofolini bianchi, tre carciofi e due mazzetti di frese. Quindi è un costo abbastanza basso. Poi ovviamente, se qualcuno si stanca di avere una composizione del genere, si può mangiare il carciofo a mettere il carciofo. Alla fine si può anche mangiare il carciofo, sì, è vero. Senti, ma oltre il carciofo, Francesco, quale altro... Noi siamo abituati sempre a vedere le nostre composizioni frutte e fiori. Eh sì, quindi la frutta... Ci sono soprattutto anche dei matrimoni dove ci chiedono soprattutto come elemento decorativo i fiori con la frutta. Con la verdura non va tanto bene, naturalmente. Era un attimo... Quindi soltanto il carciofo... Perfetto, l'abbiamo utilizzato adesso giusto per creare un attimino come porta candele, come si può utilizzare per rendere un attimino la composizione più interessante. Però in realtà la frutta viene abbinata molto bene con i fiori. Questo perché? Perché naturalmente nella frutta abbiamo diverse varietà di colori. Certo. Bene, bene, Francesco. Allora, Rossella, tu mi hai già terminato il bouquet? Sì, sì. Mamma, che bello. Guardatelo un po'. Con multicolore. Bellissimo. Abbiamo messo le fresi, abbiamo messo un girasole, il garofanino, il tulipano. Questo diciamo che possiamo anche utilizzarlo, perché no, per una sposa di marzo. Esatto, anche perché sono tutti fiori di stagione. Sono tutti fiori di stagione, quindi con un abito naif, un abito un po' più particolare, possiamo utilizzare questo bouquet da sposa. Può essere un bouquet da sposa. Quindi, Rossella, parliamo della vostra attività, perché voi ovviamente vi occupate di matrimoni, ma non solo, anche di altri eventi, quindi parlane un po' tu o pubblicizza tutta la tua esperienza e tutto quello che fate nel vostro negozio di fiori? Allora, noi al di là dell'attività commerciale, sostanzialmente organizziamo grandi eventi, quindi matrimoni, le spose si affidano a noi per un allestimento floreale fatto a modo, diciamo così, in una chiesa. Quindi cerchiamo di mantenere il gusto della sposa e ovviamente mantenere un filo conduttore dall'inizio alla fine, un colore, un tema, qualsiasi cosa essa sia, in modo tale da rendere il matrimonio meraviglioso e vivere il sogno, come ogni ragazza. Diciamo che vi occupate anche per quanto riguarda le comunioni, Certo, tutto ciò che concerne i fiori, certo, assolutamente, anche le lauree. C'è un sito, c'è una pagina Facebook? Assolutamente sì, il nostro sito è www.fioridautore.com, mentre la pagina Facebook è Francesco Intermite Fiori d'Autore. Bene, però io vorrei parlare anche del cartellone, eh? Certo. Quindi troverete dei cartelloni, anzi, parlane tu Rossella, dai. Abbiamo pensato di realizzare un cartellone pubblicitario, mio marito mi ha, insomma, mi ha, diciamo così, adattato un abito fatto tutto di fiori, di ortensie. Bellissimo, sì. E niente, abbiamo pensato bene di metterci la faccia in tutto e per tutto. Fuori dalla struttura della nostra composizione abbiamo messo, come abbiamo detto già prima, ecco, si può vedere meglio. Abbiamo inserito queste foglie di asfidistria, naturalmente, per dare un po' di morbidezza, queste candeline accese e poi ho messo giusto una piccola farfalla che si appoggia sulla fresia gialla. Che bello. Come segno di primavera, come elemento decorativo. Complimenti Francesco, davvero una bella idea, anche facile. Sì, 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 è facile. Come ho detto prima è facissimo, poi naturalmente ci sono tantissime realizzazioni che comunque da casa possono fare con elementi che si trovano naturalmente in casa. Basta, ecco, due fiorellini per poterli assemblarli insieme, viene fuori qualcosa di interessante. Bellissimo, ma questo viene anche eventualmente essiccato? Si può mantenere anche... Sì, sostanzialmente i fiori che si possono essiccare, c'è un procedimento. Si possono sostanzialmente essiccare solo fiori legnosi. Quali sono quei fiori legnosi? Sono tutti quei fiori che naturalmente hanno una conformazione legnosa, quindi le rose, poi c'è dell'illà. Allora, c'è un procedimento che si fa per l'essiccazione dei fiori. Qual è? Tutti i fiori, soprattutto quelli legnosi, bisogna prenderli, impacchettarli, quindi chiuderli affinché una volta che non prendono più l'acqua, non si disidratano e non si rovinano... Pacchettarli con cosa? Pacchettarli anche con un foglio semplicissimo di giornale, con qualsiasi tipo di foglio, metterli di testa in giù e un giorno sì, un giorno no, dargli la lacca per i capelli. Perché la lacca per i capelli? Perché la lacca per i capelli contiene una sostanza appiccicosa, quindi la tiene abbastanza compatta, siccome il fiore non è più in acqua e quindi si comincia a disidratare per non perdere la forma e la consistenza, si dà la lacca per i capelli per far rimanere completamente compatta. Avete visto quante informazioni, come sono preparati i nostri amici, sono davvero avanti all'avanguardia. Grazie. Io, ragazzi, vi raggiungo perché ovviamente siamo arrivati al termine del nostro spazio. Grazie. Volete aggiungere qualcosa? Abbiamo ricordato tutto, Rossella. Abbiamo ricordato tutto, il nostro negozio fioridotore, veniteci a trovare. Io invece sono qui con i miei cardoncelli che ho pulito, vado a tagliarli perché li voglio saltare in padella per poi farli essere uno degli ingredienti principali di queste piccole quiche con la pasta spoglia al gelmar che andrò adesso a preparare. Io vado a utilizzare proprio una delle nostre eccellenze che è l'olio. Questa vergine d'oliva 100% italiano del nostro Pantaleo, che è un'azienda che fa olio da tantissimi anni, dal 1890, pensate, quindi è più di un secolo che si occupa di olio e andiamo a utilizzare questo olio che viene appunto da, è costituito da oli provenienti soltanto dalla nostra Italia, dal territorio nazionale, ma in particolar luogo dalla nostra Puglia. Quindi il 90% dell'olio all'interno di questa, diciamo, referenza di Pantaleo che troverete in tutti gli ocean della nostra Puglia, proviene proprio dagli olivi della nostra terra, dagli olivi pugliesi. Quindi un olio pugliese che parla di Puglia, un extravergine d'oliva, dà un gusto equilibrato che possiamo utilizzare in tantissime preparazioni, perfetto anche a crudo ma anche come ingrediente di tante ricette. Allora, ecco qui, io vado ad accendere qui sotto alla padella dove ho messo l'olio Pantaleo, faccio abbastanza calda così vado a rosolare velocemente i funghi, i cardoncelli e poi andrò a trovare qualche altro ingrediente per le nostre quiche, per il ripieno delle nostre quiche. Ovviamente ci saranno le uova, ma prima utilizzeremo i funghi. Io nel frattempo che ho fatto, ho imburrato il mio stampo, la mia teglia che è da muffin, ma è perfetta anche per fare queste piccole quiche, è una teglia interderente. Comunque io ho messo un po' di burro all'interno per consentire poi che vengano bene, diciamo, fuori le liste, se vengono sfornate in maniera facile dallo stampo e vado a coppare, a tagliare la pasta sfoglia gel mar con un coppapasta per fare appunto le piccole quiche. Nel frattempo la padella qui si è scaldata, l'olio anche e vado a mettere in cottura, a scottare i funghi, i cardoncelli. Poi prendo questi dischi di sfoglia e li vado a inserire negli stampi per le nostre piccole quiche. Volendo potete utilizzare uno stampo grande, fare un'unica torta salata, una quiche salata, oppure sono molto carini, molto divertenti anche per un aperitivo con gli amici, per un antipasto a casa, potete prepararle in anticipo e poi scaldarle anche al forno pochi minuti e saranno perfette come appena sfornate. Quindi sono una bella jolly da utilizzare anche nelle vostre cene, che potete preparare con anticipo anche il giorno prima e poi scaldarli al momento del servizio, al momento che debbano essere messi in tavola e degustati o al microonde o in forno per qualche minuto. Intanto i funghi vanno, io completo il nostro stampo facendo un po' di tortine, preparando la base con questa pasta sfoglia Gelmark, uno dei prodotti Gelmark che potete trovare come referenza nei nostri supermercati Oshan. La sfoglia pronta come questa, potete trovare anche la pasta frolla, che è comoda insomma da tenere in casa perché la tirate fuori qualche ora prima dal surgelatore e poi la potete utilizzare, tra l'altro essendo un prodotto surgelato può essere tenuto fino a tre mesi in frigo, quindi nel freezer, quindi potete averla sempre lì, è comoda anche per le emergenze, per un pranzo o una cena veloce quando non avete il tempo di prepararla voi, si possono fare anche ripiena, una volta abbiamo fatto il calzone ripieno. Aggiungo un po' di sale ai nostri funghi e anche un pochino di pepe. Ecco qua, questo per insaporire e dare un po' di sapore. Diciamo che i funghi sono quasi pronti, io li toglierò perché tanto poi continueranno anche la cottura nel forno. Mi appresto a fare l'ultima base di di quiche con la pasta sfoglia e poi andrò a preparare il ripieno. I funghi già li ho fatti, ecco le tortine e le quiche sono pronte, funghi anche, lascio un attimo riposare qui e nel ripieno andiamo a prendere le uova, poi abbiamo la scamorza bianca di deliziosa, abbiamo anche la mozzarella deliziosa, eccola qua e prendiamo anche una bella casereccia, un po' di caciocavallo, casereccia de Luca, il caciocavallo, deliziosa e andiamo a fare un mix di questi ingredienti. Allora innanzitutto andiamo a preparare le uova. Quindi faccio la base della quiche, saranno le uova, ecco qua, forchetta, forchetta, forchetta. Andiamo a salare comunque il condimento delle uova, leggermente un po' di sale. ci metto il latte di mandorle, non vi spaventate ma non ho il latte, utilizzo il latte di mandorle della nostra azienda Fiume, per dare una parte un po' cremosa, magari andrò a metterci un po' più di sale per andare a compensare la dolcezza del latte di mandorla e do la base pronta delle quiche. Poi andiamo a tagliare la mozzarella, la scamorza, quindi vado a tagliare un po' di casereccia del nostro salumificio de Luca. andiamo a farle un po' un po' miste queste piccole quiche. tolto il budello. faccio dei piccoli dadini perché sono piccoline le quiche quindi mi devo anche, devo tener conto delle dimensioni. se fosse una torta più grande o unica potreste anche lasciarli un po' più grandi, li faccio piccolini. ecco qua e ci metterei un po' di scamorza del nostro caseificio deliziosa. scamorza bianca ma in realtà se avete quella affumicata va benissimo anche quella affumicata che ben si abbina ad esaltare anche i funghi, i nostri cardoncelli. ok possiamo anche metterci un po' di mozzarella che rende ancora più filante e morbido il nostro ripieno. sempre una mozzarella deliziosa che come vi ricordavo prima utilizza per tutti i suoi prodotti il latte crudo proveniente da le aziende della filiera del latte pugliese, quindi tutte pugliese, le mucche della nostra Murgia, aziende selezionate e certificate e vado a fare appunto a riempire il nostro, le nostre piccole quiche. quindi mettiamo i cardoncelli che sono diciamo l'ingrediente principale. e poi mettiamo i cardoncelli e poi mettiamo i cardoncelli e poi mettiamo i cardoncelli le luca in modo che in ogni quiche ci sia un pezzettino di tutti questi ingredienti quindi le riempite prima così in modo da non sbagliarvi da poter far trovare in ogni quiche il giusto sapore, il giusto equilibrio e andiamo ad aggiungere la scamorza e la mozzarella che darà a diventare cremosa e morbida il nostro ripieno ecco qua e adesso andiamo a mettere a completare con l'uovo l'uovo che legherà terrà insieme questo ripieno farà da legante e poi andiamo a mettere nel forno a 180 gradi per 10 minuti, un quarto d'ora il tempo che la sfoglia si cuocia e si appunto si sfogli, diventi una bella sfoglia una pasta sfogliata e poi si cuocia l'uovo e il ripieno diventi tutto bene un tutt'uno si mischino i sapori insomma il formaggio, la salsiccia, il fungo cardoncello quasi pronta adesso le inforno ripeto che cosa ci ho messo innanzitutto le ho fatte con la pasta sfoglia si quella pronta che trovate nei banchi del surgelato del nostro Oshan e tutti gli Oshan della nostra Puglia e quindi ho utilizzato la pasta sfoglia pronta a gel che guardate però com'è bella eh si guardate come si è sfogliata come dicevo prima guarda qua che meraviglia poi ho fatto un ripieno con saltando i funghi cardoncelli del nostro labbate in padella poi ho messo un po' di salsiccia casereccia de Luca la scamorsa deliziosa e la mozzarella deliziosa e le uova insomma una ricetta molto semplice però bella diciamo sicuramente gustosa vedi come sono tutte belle guarda che meraviglia poi magari facciamo un'inquadratura più ravvicinata anche della parte di sfoglia vedi come è venuta bene la sfoglia insomma farla da sole la sfoglia è molto complicata quindi utilizzare una sfoglia pronta ti consente di fare comunque una bella preparazione come questa veloce senza però insomma ammazzarti la vita senti Vale, quanti minuti? li ho tenuti in forno credo un quarto d'ora 180-200 gradi benissimo ciao 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 ciao